glorioso, generoso, le nostre strutture amministrative ci daranno una mano e completeremo tutto perché è giusto che sia intanto il calendario prevedeva questo inizio e quindi siamo qua per non abbandonare la cosa perché c'è il sacrificio di molti uomini e di molte donne che si sono spesi credo che fosse giusto iniziare nonostante le avversità cercheremo di migliorare e di fare tutto il resto che ci compete di fare grazie togliamo, 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 togliamo vai grazie 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 grazie